Allora è grande, dai, dai! Allora, 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 forza di vera prima, forza figlio, Sabina Peveri Viva via, passano tutti questi ragazzi della categoria Iuta, ecco, portavolini della DBS, questo è un anno all'arrivo a volere chi vincerà questa prova di Coppa Italia Iuta, se si tratterà di Federico Testo o di Riccardo Colveri Vabbè, non riccardo la vera, la vera, la terza posizione Con il cipide premorale Vai! Trattari di Cardino e Francesco D'Abbiazzino Andiamo di un'altra Guarda avanti, guarda, 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 guarda È Gullo, arriva? Vai, 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 vai Marco, vai Eccoci qua sul numero del proguardo Perché non manca molto l'arrivo dei primi di questa gara di Juta a Maschi Direi in fondo, Dulo, arrivi in fondo All'è, dai, dai, dai Abbiamo Riccardo e Calderi Che è Federico Pesto Vediamo se Se vediamo le cose Sarà Riccardo e Calderi Che è Federico Pesto Partito in avanti a tutti Andiamo a partire anche a piedi La prima volta delle grine Che ripetterà le 5-5 Qui qua sopra Qua sopra che vedi bene Matteo Francolelli che al primo giro Tirava il suo gruppo di Tirava il suo gruppo di bici E qua è la Rio E qua è la Rio Perché dovrai Siamo qua Da lì arrivano e qui proprio c'è lo split vinale Anzi vai un pochino più là Ti vedi per cui Ecco qua Ok Dobbiamo andare a bere adesso C'è il mio zaino Tieni l'acqua E lì adesso andiamo a bere Andiamo a bere e poi andiamo a farci Un bagno Eccoli su quelli Non so Bisogna che ci dovesse la bici No 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 Quelli sono quelli dietro Adesso c'è l'arrivo Fan tre giri E chi? Devo fare tre giri Ha tre giri? Tre giri Allora quelli sono i bici Allora niente Ripassa là sopra Vieni Ripassa sul puntino Non so se c'è gente Cos'era quello? No no c'è qua Ti viene Andiamo a vedere lì Alè alè è uguale però no no cioè c'è quale sarà la situazione Ale Ale vediamo se arriva la seta da solo e se arriva l'involata ma guarda che no ce l'arrivo già qua Federico Testa, Riccardo Calveri e poi subito dietro vieni che ce l'arrivo Daniele Carbino e Francesco Cazzino nel quartetto che hanno posato vicinamente tutti formato da Federico Testa Riccardo Calveri e Daniele Carbino e Daniele Carbino ultimo giro, stringi i denti, vai eccolo vediamo dai ragazzi è finita andate assieme dai bravi bravi assieme vai bravi così eh andate via assieme hai fatto un grande recupero vai 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 soffia bene soffia bene soffia dai Luca vai 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 dai 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 vai 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 andiamo noi ci arrivano si va bene Ed ecco loro, che entrano sull'ultimo finale, non sono in tre, sono attaccati. Riccardo Valdieri, Riccardo Valdieri, mentre dietro c'erano altri, se voglio posto, Riccardo Valdieri, vince, vince, Riccardo Valdieri, se voglio posto, e terzo. Io non mollavo mai a volare così, io me li dovevo mollare. Cioè, ti vai a impiccare, tutto ti va a impassare. Ed ecco Francesca Garzina, che va a chiudere la terza botta, in vicino all'alto Valdieri. Ecco Francesca Garzina, che forza, mi metta a pensare nella barna, mi devi ammazzare. E' un nuovo Lombo 3, quinto, e' un'altra Gisette Leone, l'alto Valdieri di Milano. Vabbè, avete visto il ritmo? Questa è una bella, una bella volata. E' un altro ragazzo dell'ACN di Milano, con il Lombo 4, 8, 2, si tratta di... Si tratta di Leonardo Contume, che è Davide Gardino, che ha animato la prima frazione, l'uomo di 4, battistrata, prima adesso... E' visto gente che fa un giro in meno, che si sbaglia. Ed è quanto andrà a Bamburino, l'alto Valdieri d'Otro, per la posizione iniziale. E' lì, Paolo. Le donne. E' un'altra Gisette Leone, è un'altra Gisette Leone, è un'altra Gisette Leone. Vabbè, vabbè, vabbè. Le donne. Bravo, Areve. 5 e 9 e 4, 4 e 4, Riccardo, Granfamuni, Gravidato, Migliorata, Vogliato del Poblo, in dei non arrivano tutti, Sancisi, Fotti, bellissima gara di questa, bellissima gara di questa con l'arrivo, e quindi sono arrivati molto vicini tutti dentro, solo partiti a piedi le prime arrivate per la gara femminile ora dovremmo capire buona voglia te quanti stanno con la bici come fai? riconosci il mezzo? si ecco la nuova dal fisico che arriva davanti a una tera con il doppio di lui bellissima volata con il piccolo Mike Steiner eh? che hai detto? siamo dalle zone del nord allora ci raccomandiamo non so stare sui ponti i ponti servono per attraversare per passare non so stare sui ponti ecco la che arriva la volata noia il carico strutturale potrebbe caricarsi dopo eh? non c'è più grande grandissimo immaginate se 10 gualla sostrano sul ponte bravo c***o non so stare sui ponti scendete dei ponti andiamo andiamo a prendere le bici dai qui